Musica Prima con i botti di Capodanno, poi direttamente con le auto. I velo che è installati nelle frazioni di Palombaio e Mariotto, così come a Bitonto, sono saltati più e più volte e per l'amministrazione è diventata una questione di principio. Qui i presidi di sicurezza non vanno assolutamente rimossi. Voglio dire ai cittadini di Palombaio e Mariotto, state tranquilli perché noi ripeteremo ancora l'esperienza in una modalità diversa, ma la prossima settimana staranno installati in una maniera diversa aerei e quindi non li lasceremo soli. E diciamo la parte buona delle frazioni di aiutarci, perché questo processo di civilizzazione di questo popolo deve avvenire anche attraverso il loro contributo. Noi siamo disponibili sempre, lo avevo promesso alle frazioni e lo abbiamo fatto e lo faremo. Lo facessero saltare altre dieci volte e noi continueremo e perseguiremo questa strada, anche perché così lo vuole anche l'amministrazione comunale. Ci sarà qualche altra azione correttiva che faremo per far sentire i cittadini onesti di Palombaio meno soli di quando si sono sentiti quando hanno visto abbattuti le autovelox. Ricordo a chi non è d'accordo con le autovelox e magari può trasferirsi di residenza nei pressi dei posti dove sono stati installati le autovelox, sentire i vicini di casa e vedere se poi questi servono oppure no. Quindi non mi è piaciuta neanche la divisione tra quella cittadinanza che era sensibile all'installazione perché ovviamente vedeva le macchine passare di corsa e quindi sentiva un pericolo oggettivo per i figli e quell'altra cittadinanza che tranquillamente se ne fregava perché magari nel proprio quartiere di residenza non aveva quello specifico problema. Ecco, dobbiamo cercare un po' di ragionare in senso comune, non guardando soltanto quello che accade davanti a casa nostra.